Si chiama Maria Camila, ha 16 anni e risiede a Pistoia con il fratello ed i genitori adottivi. Di lei si sono perse le tracce ormai da 13 giorni. La ragazzina è scappata da una casa famiglia di Arezzo, dove era stata destinata dopo i continui tentativi di fuga. È il padre, un avvocato pistoiese, Daniele Vecchi, a lanciare l'appello dopo giorni di preoccupazione. Non è la prima volta che la giovane scappa, ma adesso lo ha fatto senza soldi e cellulare. L'inquietudine della ragazza si era già fatta sentire nei mesi scorsi, per questo i servizi sociali avevano deciso che per lei era meglio essere seguita all'interno di una struttura dedicata, nella quale ricevere anche supporto psicologico. La scelta è ricaduta su una struttura a retina. Nonostante il trasferimento, l'inquietudine prosegue, la sedicenne scappa quattro volte dalla casa famiglia, ma era sempre tornata. È tantissima la preoccupazione della famiglia ai genitori e il fratello Alexander Colombiano, adottato nel 2009 assieme a Maria Camila, continuano a cercarla. L'ultimo incontro con il papà il 29 maggio scorso. Torna presto a trovarmi, aveva detto la giovane, e il papà le aveva raccomandato di comportarsi bene. Lei scherzando aveva risposto mi allontanerò di martedì, così farò in tempo a tornare per domenica. È stata avvistata l'ultima volta a Pisa. La famiglia si raccomanda che qualsiasi avvistamento sia segnalato alla questura o telefoni alla famiglia stessa al numero 328-7274042.